Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura parliamo di fisco e di tasse. Secondo uno studio condotto dall'Osservatorio Nazionale della CNA, il carico di pressione fiscale sulle microimprese abruzzesi supererebbe il 50% del reddito totale. I giorni di lavoro dedicati al guadagno personale sarebbero 151 l'anno. Da questi numeri deriva l'appello ai governanti locali, al Governo Nazionale, per un abbassamento della pressione fiscale. Il servizio di Francesca Romana Testi. Comunica e vai fisco che trovi. E' questo il resoconto dell'indagine portata avanti dall'Osservatorio Nazionale della CNA, che ha concentrato la sua attenzione sulla pressione fiscale nei confronti delle microimprese abruzzesi, scoprendo con una classifica poco confortante che pagare di più sono le città di L'Aquila, Spoltore e Lanciano, ma le altre città non se la cavano meglio. Abbiamo cercato di tramutare questo 60% nei giorni che servono all'imprenditore di lavoro per produrre il reddito che serve per pagare le tasse. E lo abbiamo chiamato Tax Free Day, cioè giorno della liberazione dalle tasse. E in questo caso arriviamo in media verso metà agosto e alcuni comuni dell'Abruzzo arrivano a fine agosto. Cioè si lavora fino a fine agosto solo per pagare le tasse. Secondo i dati un imprenditore impiega 214 giorni lavorativi per guadagnare la somma necessaria a pagare le tasse. Per fare cassa invece ne restano solo 151 nell'arco di un anno. Tra le voci che compongono il paniere ci sono IMU, Tasi, Tari, IRAP, IVS, IRPEF, addizionali regionali e comunali. Mediamente la pressione fiscale copre il 58,4% del reddito totale. L'appello di CNA è rivolto verso il governo nazionale. Quello che incide sulle tasse locali è soprattutto i valori catastali che le varie amministrazioni applicano sugli immobili e sulle varie zone. Sono di una differenza completamente diversa da un comune limitrofo all'altro. E questo non deve essere, deve essere regolamentato. E restiamo sempre a parlare in qualche maniera di imposizione fiscale e di recupero delle tasse. Perché questa mattina si è svolta a livello nazionale una giornata intitolata Equitalia Basta Equitalia Day. Anche a Pescara si tin di protesta davanti alla sede di Equitalia organizzato da Fratelli d'Italia. per chiedere con una raccolta firme l'abolizione dell'istituto di riscossione. Paolo Renzetti. Basta Equitalia Day parte la campagna di Fratelli d'Italia in diverse città del nostro paese per chiedere attraverso una raccolta di firme l'abolizione di Equitalia. Armando Foschi, anche a Pescara questa mattina c'è questo sit-in con questa raccolta di firme. Sì, un sit-in che è già riscosso l'usiniero successo di cittadini che si sono fermati a firmare la nostra petizione. Petizione che verrà inviata alla Camera dei Deputati tramite i nostri onorevoli, verrà proposta come legge. Chiediamo l'abolizione di Equitalia, una società pubblica che lo spaventa di tutti gli italiani, vesta agli italiani e ci sono stati anche casi drammatici di persone che purtroppo hanno messo fine alla loro vita per colpa delle vestazioni da parte di Equitalia. Il motto della manifestazione è se hai pagato una sola cartella o una sola rata a Equitalia vieni a chiedere giustizia per tutti quei soldi che hai dovuto togliere dalle tasche per saldare interessi, agio, spese di notifica e maggiorazioni su maggiorazioni. La nostra proposta di legge è abolire Equitalia e passare alle regioni la riscossione dei crediti senza agio e senza interessi. Cambiamo argomento adesso, ci occupiamo di ricostruzione, si sblocca l'iter per la nascita della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul terremoto. Giorgio Alessandri. Si sblocca l'iter per la istituzione della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul terremoto, voluta con un progetto di legge dalla senatrice PD Stefania Pezzopane e sostenuto da varie forze politiche, tra cui l'Italia dei Valori. Un organismo che sarà monocamerale, di cui faranno parte solo i senatori, che si occuperà di fare chiarezza sull'intera vicenda sisma, dall'emergenza seguita alla scossa del 6 aprile 2009, alla costruzione degli New Town, alla ricostruzione dei centri storici. È a buon punto perché abbiamo acquisito il testo base, lo abbiamo discusso, si è partito dal mio testo per poi implementarlo anche con le proposte degli altri gruppi parlamentari. Si è definito il testo del relatore, ora entro il 16 vanno presentati gli emendamenti, verranno esaminati gli emendamenti, se utili, approvati, e poi verrà in aula. Quindi si è sbloccata abbastanza rapidamente la situazione. Io sono felice perché, come ho voluto rimarcare, in Italia c'è un'idea sbagliata di quello che abbiamo fatto e la sovraesposizione mediatica per alcuni versi ci ha nuociuto e dobbiamo riportare verità e giustizia sulle vicende della ricostruzione e chiarire quali sono stati i veri problemi, quali sono i veri problemi e naturalmente superarli. Secondo lei chi potrebbe essere il presidente della commissione parlamentare? Non ho la minima idea al momento chi possa essere perché va ancora composta, sarà comunque una commissione monocamerale solo del Senato. Nasce il notiziario della ricostruzione, un portale web che conterrà dati, cifre e numeri relativi alla rinascita dell'Aquila e dei comuni del Cratere. Un portale internet per raccontare giorno dopo giorno lo stato dell'arte della ricostruzione. Avanzamenti dei cantieri, inizio delle opere di riparazione degli edifici pubblici e privati saranno contenuti all'interno del notiziario della ricostruzione. Nato per l'iniziativa dell'Agela d'Abruzzo, l'Agenzia giornalistica economica d'Abruzzo, in collaborazione con Comune, Regione, uffici speciali per le ricostruzioni dell'Aquila e del Cratere, costruttori e ordini professionali. Ora è sotto gli occhi di tutti che la ricostruzione c'è. Andare fuori l'Aquila, non bisogna andare tanto lontano. E sentirsi dire che la ricostruzione è ferma non è accettabile. E quindi è necessario spalmare sul territorio una quantità di informazione enorme che generi consapevolezza, appartenenza che passa attraverso la partecipazione. Perché la partecipazione c'è quando c'è conoscenza, quando le persone le cose le sanno, automaticamente le partecipano o emotivamente o con azione. E quindi si sentono appartenere a quella cosa. E quindi qui quello che si tratta di fare è generare appartenenza. Ricostruire l'immagine dell'Aquila perché sentirsi dire che siamo degli assistiti non va bene. Anche perché non è vero. Riflettori accesi di 24 ore al giorno, insomma il web non dorme mai, sulla rinascita dei centri storici per monitorare i processi di ricostruzione. Uno voglio mettere avanti il fatto che io sono aquilana. Sono aquilana dentro. Anche se la mia storia familiare non è proprio così. Ma io mi sono scoperta aquilana dentro da quando la mia città non lo putta più. E penso che accadrebbe a chiunque. E poi perché sono una professionista della comunicazione, della mediazione e della comunicazione. E storicamente ho creato prodotti editoriali. Quindi la mia agenzia esprime un core business che è questo. AGEA crea prodotti editoriali e genera servizi. Cambiamo ancora una volta argomento. In Abruzzo la presenza di immigrati rispetto a dieci anni fa è triplicata. Oggi sono presenti 86.245 immigrati, il 6,5% della popolazione residente. Il dato è emerso durante la presentazione del volume per una gestione integrata del fenomeno. Iniziativa che ha l'obiettivo di migliorare l'integrazione dei migranti. Elisa Leuzzo. Capire e mettere in evidenza le criticità della rete dei servizi per l'integrazione dei migranti in modo da studiare ipotesi correttive per una migliore governance. Questo è l'obiettivo dell'iniziativa organizzata dall'assessorato alle politiche sociali in collaborazione con la prefettura di Chieti e Lanci Abruzzo presentata questa mattina dall'assessore alle politiche sociali Marinella Sclocco. È un manuale assolutamente utile per la parte politica che deve programmare e non può non considerare quello che sta succedendo nonostante chi soffia sul fuoco ma è un fenomeno che va considerato perché c'è sui nostri territori e quindi va contenuto, arginato, sopportato e supportato. Non è possibile che i comuni ritirino i bonus bebè alle mamme immigrate che devono lavorare come le nostre mamme perché sono venute qui anche per lavorare quando ne hanno la possibilità e quindi creando un secondo problema. Il piano sociale è prontissimo spero che il Consiglio regionale possa essere veloce nel deliberarlo. Ci saranno grandi cambiamenti in questo piano anche rispetto al regolamento di accesso ai servizi che è un altro punto importante e quindi insomma poi daremo il via spero ad una nuova stagione. In Italia sono circa un milione i bambini che vivono in povertà e secondo un rapporto di Saved Children la povertà materiale coincide con la povertà educativa. Secondo i dati anche l'Abruzzo soffre di questo fenomeno ed è per questo che il 12 maggio a Pescara si svolgerà un evento intitolato Illuminare il futuro dei bambini. L'Abruzzo si colloca al quarto posto in Italia per povertà educativa di bambini e adolescenti. Sui gradini più alti del podio ci sono Sicilia e Campania quali peggiori in assoluto. La classifica si basa sulla scarsa e inadeguata offerta di servizi e opportunità educative e formative. Pochissime le scuole della nostra regione che offrono tempo pieno immensa. Solo il 10% dei bambini tra 0 e 2 anni accede a un asilo pubblico. Secondo l'Oxepisa il 58% degli studenti frequenta scuole dotate di infrastrutture insufficienti a garantire l'approfondimento. Dato positivo invece il basso tasso di dispersione scolastica. La campagna di Saved Children promuove un'iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione. I bambini più poveri, quelli che ritirano le zone con maggiori difficoltà economiche, i figli degli immigrati, tutti quei bambini di famiglie meno abbienti che hanno difficoltà ad avere un'educazione completa e piena. Sarà la Novissi Onlus di Pescara a ospitare l'evento in programma per il 12 maggio che offrirà laboratori creativi gratuiti per genitori e bambini intitolato il topo di campagna e il topo di città. La Novissi abitualmente svolge attività educativa nei propri locali in Viale Bovio. E quindi la campagna di Saved Children entrerà a far parte di un'attività che Novissi svolge regolarmente. Restiamo a Pescara a tutelare e valorizzare la pineta d'Avalos, simbolo della città. Raccontata da Gabriele D'Annunzio, l'amministrazione comunale con la collaborazione di alcune associazioni ambientaliste, ha organizzato una serie di incontri nelle scuole con tecnici e cittadini per pianificare nuovi interventi. Un ciclo di conferenze per affrontare aspetti storici, artistici e culturali sul tema della conservazione e valorizzazione del biotopo della pineta d'Avalos. I pini Alepensis rappresentano il vero emblema della storia pescarese, così come raccontava il D'Annunzio che le rese protagonisti di tante sue celebri opere. Oggi i pini non hanno vita facile nella cementificazione del territorio e l'amministrazione comunale promuove uno studio votato alla pianificazione di interventi a loro tutela. È giusto che un cittadino si affezione ad un pino e si indigni nel momento in cui bisogna tagliarlo, ma bisogna fare un lavoro a monte se vogliamo evitare quei tagli. Oggi noi ci ritroviamo con dei pini malati che devono essere tagliati per ragioni di sicurezza. Si tratta di creature resilienti, così definite perché capaci di resistere a ferite e colpi e proseguire la propria vita grappandosi a forme alternative di crescita. Sono abbastanza longevi e gli alberi adulti possono raggiungere dimensioni intorno ai 15-20 metri d'altezza, anche se solitamente, crescendo in condizioni disagevoli, si mantengono entro dimensioni più contenute e proprio alla loro valorizzazione è dedicato l'impegno delle associazioni ambientaliste. Ma laddove c'è una programmazione a monte si riesce anche a prevenire quelli che sono i danni provocati poi dagli agenti atmosferici che sono comunque inevitabili. Per cui ci sono stati sì dei problemi sotto questo punto di vista, ma non bisogna più intervenire in emergenza, ma bisogna intervenire con la programmazione. E scopo appunto di questa conferenza è di programmare degli interventi e programmarli in maniera coordinata per raggiungere dei risultati appunto condivisi per il bene della pianeta stessa e per il bene di Pescara. Il giocatore del Pescara, Rolando Mandragora, si è raccontato questa mattina agli studenti dell'Istituto Volta un incontro fortemente voluto dal giocatore Biancazzurro che tiferà per i suoi compagni dalla tribuna a causa dell'infortunio subito a Chiavari che lo terrà lontano da questo finale di stagione. Vediamo. Rolando Mandragora, oggi all'Istituto Volta per incontrare gli studenti, per parlare della sua esperienza di calciatore. Hai voluto fortemente partecipare a questo evento nonostante l'infortunio. Sì, fa sempre piacere partecipare ad eventi del genere dove vedi coinvolti tantissimi ragazzi, chi della mia età e chi invece è un pochino più piccolo. Fa piacere perché comunque loro aspettano magari tanto questo momento quindi fa piacere accontentarli e sono il primo ad essere contento ad incontrare tutti questi ragazzi. Come procede la rieducazione, il recupero dall'infortunio? La rieducazione procede benissimo, mercoledì tolgo i punti e spero di poter tornare sul campo quanto prima perché mi manca già tantissimo. Ieri c'è stata questa vittoria importantissima con il Lanciano che pescare hai visto dalla tribuna? Ieri dalla tribuna ho visto un gran pescara come sempre d'altronde. Abbiamo fatto una gara strepitosa come ora non devo stare qui a dirlo sia sotto l'aspetto mentale, sotto l'aspetto della concentrazione, dell'approccio alla gara e abbiamo portato a casa i tre punti. Ora ci aspettano altri due finali e poi alla fine tiriamo le somme e speriamo di iniziare al meglio i play-off. Mandragora non ci sarà nei play-off, farà un gran tifo però per il Pescara, non ci sarà neanche Memuchay, due assenze importanti? Sì, sono due assenze che sicuro i nostri compagni sopperranno alla grande perché non ci sono titolari veri e propri ma siamo una squadra formata da 30 compresi lo staff e ognuno fa del suo meglio quindi non ci saranno sicuramente problemi. L'ultima Rolando ti aspetta l'Uventus, ti aspetta l'Under 21? Sì, spero continuare ad aspettarmi. Ieri pomeriggio prima del derby Pescara-Lanciano è stato tagliato il nastro del nuovo settore disabili dello stadio Adriatico Cornacchia. Vediamo. Sì, oggi siamo soddisfatti che il lavoro svolto in questi mesi dai suoi frutti questa è una tribuna che ospita in condizioni di sicurezza 50 disabili può sembrare una cosa scontata ma abbiamo dovuto combattere con la burocrazia la buona volontà aiuta e questo è il risultato un grazie all'assessore Diodati qui al mio fianco e a tutti coloro i quali della struttura hanno contribuito a questa realizzazione. Sono stati tagliati dei posti che erano posti a pagamento di questo stadio perché avete fortemente voluto questo settore per i disabili, Sebastiano? Certamente, abbiamo già dall'anno della Serie A abbiamo fatto dei lavori era in programma questa realizzazione di questa parte per i diversamente abili ci è voluto un po' di tempo però è stato fatto come si deve cercando di dare spazio ad altri ragazzi che diversamente non potevano venire quindi sicuramente una cosa positiva adesso al di là di qualche posto perso che non succede assolutamente nulla. E questi servizi ci hanno avvicinato lentamente alla partita di ieri pomeriggio che si è giocata a Pescara il derby tra Pescara e Lanciano è finito 4-0 per il Delfino quasi senza storia la partita ora la Virtus è costretta a vincere le ultime due gare per riuscire ad acciuffare i play-out invece i bianchi-azzurri sono terzi in classifica andiamo a vedere il servizio il Delfino non fa sconti e nel derby dello stadio adriatico supera nettamente con pieno merito la Virtus Lanciano in un match che è durato mezz'ora con il crollo dei rossoneri dopo la prima rete dei bianchi-azzurri che hanno poi avuto il merito di non mollare non abbassare mai la guardia chiudendo la contesa poi nella ripresa con il rigore di Memushai ora il terzo posto in realtà per il Pescara ma il pensiero è già rivolto alla gara di Modena per il Lanciano non tutto è perduto in chiave salvezza ma bisognerà vincere le ultime due gare e sperare in qualche passo falso delle dirette concorrenti si comincia davanti ad una cornice di pubblico da serie superiore con quasi 15.000 spettatori sugli spalti nel Pescara formazione annunciata tra i frentani non c'è Marilungo sostituito da Rocca assente anche per squalifica Capitana Menta avvio aggressivo della formazione ospite al quarto tiro cross di Di Matteo con Fiorillo che è costretto a respingere con i pugni al quinto la risposta del Pescara con un tiro dai 25 metri di Lapadula con il salvataggio in calcio d'angolo di Cragno passa qualche secondo di Lanciano è ancora aggressivo e crea un brivido in area bianca azzurra con Zampano che salva in angolo su Rocca la gara è già da subito avvincente all'ottavo parte il contropiede del Pescara con la palla che finisce a Caprari che tira a botta sicura con il salvataggio alla disperata quasi sulla linea di Di Matteo che evita un gol già fatto la gara non regala un attimo di sosta con attacchi dall'una e dall'altra parte al 26esimo c'è una fiammata bianca azzurra con un colpo di testa centrale di Caprari che poi sbroglia una matassa che si stava ingarbugliando segnando il gol della domenica con un tiro incredibile dai 25 metri e con il pallone che si insacca all'incrocio per l'1-0 la squadra di Primo Maragliulo accusa il colpo e al 35esimo incassa il 2-0 griffato da Francesco Zampano che fa tutto bene saltando i difensori rossoneri e mettendo alle spalle dell'incolpevole Cragno per il difensore pescarese che si toglie la maglia e viene giustamente ammonito si tratta della prima rete stagionale con la maglia del Delfino la ripresa inizia quasi al piccolo trotto prima del retropassaggio al settimo di Bacinovic a Cragno con Abisso che comanda la punizione indiretta in area e con la respinta della barriera umana rossonera su conclusione violenta e ravvicinata di Gianluca Lapadula al decimo l'ex attaccante del Teramo ci prova su rovesciata alzando sopra la traversa i rossoneri sembrano però non crederci con il Pescara che gioca in scioltezza e che trova al diciottesimo il Trisse che chiude di fatto la gara grazie ad un rigore trasformato da Memushai assegnato da Abisso per un fallo di Bacinovic sullo stesso capitano pescarese per l'albanese il gol dal dischetto e la festa sotto la Nord per un gold che mette il sigillo alla vittoria del Pescara il lanciano un sussulto e al ventesimo di Francesco a chiamare Fiorillo alla parata in calcio d'angolo l'ex pescarese figlio d'arte ci riprova al ventiquattresimo con la palla che termina fuori di un soffio il finale è un film già visto e vede al quarantesimo la buona opportunità sprecata da Ferrari tutto solo davanti a Fiorillo prima dell'esordio stagionale di Diamutene che entra al posto di Fornasier ma c'è gloria anche per Luca Storreira che al quarantaquattresimo nella più classica delle azioni di contropiede piazza il poker ed il 4 a 0 con cui si chiude il derby poi la festa bianca-azzurra sugli spalti e lungo le strade attorno allo stadio per un successo che vale il terzo posto a 180 minuti dalla conclusione della stagione regolare sempre con Paolo Renzetti scendiamo negli spogliatoi per andare ad ascoltare le interviste a caldo nel dopo partita la gioia composta di Oddo e la ovvia delusione dell'allenatore del Lanciano Maragliuro conosco il valore dei ragazzi e sapevo che se avessimo fatto una partita giusta come sappiamo fare noi come abbiamo fatto oggi avremmo avuto larghe chance di vincere oggi l'abbiamo preparata esattamente così sapevamo di affrontare una squadra che è sempre ben messa in campo ti lascia pochi spazi e l'unica maniera per aggirare queste difficoltà era quella di muovere velocemente il pallone e trovare poi i varchi non ci dobbiamo sentire assolutamente appagati perché sappiamo quanto vale la posizione in classifica in funzione dei playoff e abbiamo due partite dure come quella di oggi e dobbiamo continuare così l'unica certezza che abbiamo è quella che se facciamo sei punti siamo certamente lì il gol ha cambiato completamente la partita perché io sinceramente ero anche contento perché i primi 15 minuti Lanciano stava giocando la partita come l'avevamo prevista e come avrebbe dovuto giocarla invece purtroppo è arrivato questo gol dopo il gol non siamo riusciti a reagire la Pescara ha sfruttato la sua bravura la sua superiorità e non ne siamo più usciti noi è chiaro che dobbiamo pensare prima di tutto a noi stessi poi al Pescara al di là dell'agurio che faccio di rimanere al terzo posto lo faccio anche interessato perché se rimane al terzo posto vuol dire che magari ha vinto tutte e due le partite contro due nostre diretti concorrenti però prima di tutto noi dobbiamo pensare a noi stessi e allora andiamo a vedere la classifica di serie B eccola qui Crotone e Cagliari sono già promosse in serie A con 79 e 77 punti poi c'è il Pescara terzo a 68 punti poi il Trapani a 67 Bari 65 Spezia e Novara 62 assieme al Cesena poi la Virtus Centella 61 Brescia Perugia e 54 Ternana Avellino a 49 Vicenza a 48 L'Ascole a 46 punti la Provercell a 43 poi Latina il Modena che è il prossimo avversario delle Pescara e anche in Latina assieme alla Salernitana a 42 punti poi c'è la Virtus Lanciano che ha 7 punti di penalizzazione a 39 punti e poi il Livorno e il Como rispettivamente con 38 e 30 punti andiamo in Lega Pro adesso passa l'Aquila ad Aprilia di misura contro la Lupa Roma e da oggi bisogna preparare i play-out la salvezza passerà dalla doppia sfida contro il Rimini ci racconta Lupa Roma l'Aquila finita 0-1 Andrea Costantini L'Aquila è viva e pronta a giocarsi la salvezza nel doppio confronto play-out avversario sarà il Rimini che all'ultima giornata è stato superato dal Prato scivolando dunque al quarto ultimo posto L'Aquila è viva perché dopo 10 giornate di astinenza è tornata finalmente alla vittoria in coincidenza con il ritorno in panchina di Carlo Perrone richiamato una settimana fa al posto di Modica per risollevare le sorti di una squadra dilagnata da mille problemi non passava ad Aprilia la salvezza dell'Aquila ma certamente aver ripreso confidenza con i tre punti è un buon prologo in vista degli spareggi al quinto Ricci senza San Domenico Cosentini Pesoli e Maccarrone Perrone presenta Bruno e Bigoni con Piva e Ligorio in avanti Perna sarebbe il prescelto con De Sousa e Triarico ma l'attaccante napoletano si fa male prima della partita e allora in campo va il figlio d'arte Andrea Mancini che sarà l'uomo partita la lupa Roma per superare in classifica l'Aquila dovrebbe vincere con due gol di scarto ma le offensive dei laziali nel primo tempo sono sterili l'Aquila dal canto suo viene fuori a inizio ripresa prima Triarico fornisce un pallone invitante a De Sousa che alza la mira sotto misura poi al quinto Andrea Mancini si fionda sul rinvio dalle retrovie di Bigoni ubriaca Pasqualoni e con un preciso diagonale insacca il gol partita bella esecuzione per l'attaccante che ha avuto poco spazio nel corso della stagione poco dopo lo scatenato Triarico lavora un altro ottimo pallone per Manuel Mancini che non riesce a chiudere i conti nei minuti successivi Perrone regala il debutto al giovane Fall la Lupa Roma ci prova con un paio di sortite del neo entrato difensore Fabbro ma il risultato non cambia l'Aquila ritrova così un piccolo sorriso in attesa di un doppio confronto che varrà una stagione gara d'andata il prossimo 21 maggio Il Teramo chiude la stagione con il pari di Pontedera per 3 a 3 conquista l'ottavo posto che vale il piazzamento per partecipare alla prossima Team Cup ora si guarda ovviamente al futuro primo nodo da sciogliere quello dell'allenatore Vincenzo Vivarini il servizio di Jacopo Forcella Chi si aspettava la classica gara di fine stagione a Pontedera non è stato deluso finisce 3 a 3 col Teramo che va in vacanza e chiude nell'armadietto dei ricordi non proprio indimenticabili un campionato nato sotto una stella non buonissima e che si chiude in sordina come spesso nel calcio succede la certezza della salvezza arrivata già da 3 settimane fa da controaltare agli enigmi che ancora attanagliano la società di Via Oberdan il primo dei dubbi è legato al futuro del tecnico ancora da capire se quella del Mannucci sia stata oppure no l'ultima panchina in bianco rosso di Vincenzo Vivarini d'altronde lui stesso ha lasciato più di un interrogativo prima i programmi poi il contratto con queste premesse per un accordo se ci sarà ci vorrà un po' di tempo ma la prima volta a segno per Monni e Cecchini fa il paio invece con la rete di Alessandro Di Paolo Antonio che in questa stagione pare essersi proprio caricato il Teramo sulle spalle il ragazzo a stoffa e ha dimostrato di volere e poter essere un leader della squadra della sua città certo che il Ponte d'Era non è stato a guardare ha risposto colpo su colpo al diavolo e ha legittimato l'ennesimo campionato tranquillo merito di una gestione indiana in panchina Giovannini di S chiara e dagli obiettivi ben definiti fin dal ritiro estivo tutto quello che a Teramo è mancato quest'anno in cui ha regnato il vorrei ma non posso che ha dato fiato a tanto di quel rammarico che potrebbe riempire uno stadio intero da oggi dunque si pensa al futuro la guida tecnica prima il progetto come si suol dire poi la rosa tutti i compiti che attengono al presidente Campitelli in primis ma che si tradurranno inevitabilmente il lavoro per il nuovo direttore sportivo Fabio Lupo quello che c'è di certo è che non sarà un'estate rovente come quella del 2015 e questo in casa Teramo se volete è già una buona notizia ed ora parliamo di calcio a 5 al Palarigo Piano finisce l'avventura dei campioni d'Italia delle Pescara battuti per 3 a 4 dal gruppo Fassina Luparenze che vince per la seconda volta in stagione in Abruzzo lo aveva fatto anche lo scorso la scorsa partita nella regular season e si guadagna così la semifinale contro il Real Rieti la squadra di Colini non potrà quindi chiudere in maniera trionfale una stagione iniziata con la vittoria della Supercoppa e proseguita con quella della Coppa Italia e con il quarto posto in UEFA Futsal Cup Masticamaro il presidente Danilo Iannascoli che in un post su Facebook si è detto orgoglioso di essere riuscito a portare Pescara tra le grandi d'Europa ha criticato la scelta anomala della Luparenze di attaccare dal primo minuto con il portiere di movimento e ancora sempre nel post ha riservato una steccata anche alla divisione calcio 5 al presidente dei Veneti Zaratini che secondo Iannascoli avrebbe minacciato di non riscrivere la squadra chiedendo aiuto Iannascoli ha scritto non vado a cena con chi comanda non sponsorizzo e non telefono chiedendo aiuto e continuerò così fino a quando non sarò stanco di fare enormi sacrifici per amore dello sport è tutto per questa prima edizione del TG6 io vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23 grazie per essere stati con noi buona giornata grazie per la visione